Le tenebre portate dal coronavirus sono sempre più spesso squarciate da gesti di solidarietà che offrono momenti di speranza. I veri eroi restano i medici in prima linea per combattere il temibile Covid-19 spesso sprovvisti del materiale di protezione personale. Ai medici italiani si uniranno dai prossimi giorni 30 medici che arrivano dalla vicina Albania, quella che è storicamente considerata la ventunesima regione italiana, ha commosso con il suo gesto ma ancor più con le parole del suo primo ministro Edirama che ha mostrato tutta la riconoscenza del popolo delle due aquile tracciando un solco con i comportamenti che in queste stesse ore stanno tenendo i paesi più ricchi. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Ai medici è dedicato il pensiero di numerose associazioni del territorio pugliese. Mascherine sono state donate attraverso la protezione civile dal distretto 2120 del Rotary CREB che riunisce tutti i club di Puglia e Basilicata. L'associazione Onda d'Urto di Andri ha distribuito diverse mascherine a vari reparti di diversi ospedali ricevendo il plauso dei primari perché come abbiamo raccontato già più volte l'utilizzo smodato di mascherine da parte della popolazione ha creato una penuria di questi presidi medici creando spesso il paradosso che proprio chi in prima linea ne è sprovvisto mentre chi va a comprare il giornale lo fa con le ormai celebri FFP2 che è come indossare un giubbotto antiproietile per giocare a calcetto. Ma se la popolazione si sente più sicura indossandole è pure giusto che possa avere qualcosa che la faccia sentire protetta. In questo senso molto efficace è l'idea della New & Best, un'azienda di abbigliamento barlettana che da oltre 30 anni affianca i principali brand italiani e internazionali della moda. La società fondata da Michele Doronzo ha prodotto e distribuito gratuitamente tra i supermercati di Barletta le prime 100.000 mascherine che i barlettani potranno utilizzare per fare la spesa. Altre verranno donate alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea la battaglia per contenere la pericolosa epidemia da Covid-19. Della loro distribuzione si sono fatti carico i volontari dell'associazione No Profit Barletta Sociale presieduta da Antonio Capuano. L'azienda ricorda che le mascherine non hanno l'omologazione per essere utilizzate nei presidi sanitari ma rappresentano in ogni caso un semplice ed efficace dispositivo di protezione individuale. Mascherine e un'automobile alla Croce Rossa di Andrea Trani l'hanno donata agli imprenditori andriesi riuniti sotto l'associazione Uniti per la Vita che si è fatta conoscere per il suo sostegno al progetto Senza Sbarre volto offrire percorsi alternativi alla detenzione. L'auto potrà servire alla Croce Rossa per raggiungere tutte quelle persone che hanno necessità di accedere ai servizi di consegna medicinali domiciliare. Anche la politica non sta a guardare. Dalla piccola Trinitapoli arriva un grande gesto. Tutta la giunta comunale ha deciso di rinunciare alle indennità per riminguare il capitolo di spesa dedicato al sostegno dei cittadini in difficoltà economica.